eccoci qua, ma non chiamare culone il tuo cane, cuorino, di culone qua c'è solo la mamma culino, culino, allora ed eccoci qua siamo per la terza piega, solita cosa mi sono bagnata la mano ok, dai che devo andare a stendere la tomba romana, allora i grumetti si stanno disfacendo o disfando, Michi fermo, un'altra piega, un'altra piega come prima, un'altra piega e un'altra piega rimetto via e ne facciamo un'altra ok, allora, dunque diciamo che facendo così ovviamente togliamo la puntata perché tra Trinf e Trinf passano quelle due orette, possono anche essere più di due ore ok, anche tre, quattro, cinque un pomeriggio intero, io la breve perché dopo mi rompo anche un po' le balle scusate e quindi la lievitazione è già partita, perciò il momento che abbiamo finito di incordare, che abbiamo visto che i grumi non ci sono più, l'impasto è bello fatto, si prende e si mette direttamente in frigorifero oltre a noi a nevicato potrei anche metterlo fuori, che forse è anche meglio, ok? sono un po' pentitata sulle 23, va bene, adesso ragazzi comincio a stendere la tonda ci vediamo tra un'altra mezz'oretta, un'oretta, un'oretta, dai, tra un'oretta bacetta a tutti, baci stellari